Censimento in corso nell'ex hotel Ionio di via Silicella 10 nel quartiere di Torre Maura dove la polizia di Roma Capitale sta controllando quanti sono effettivamente gli occupanti abusivi della struttura che nei prossimi giorni verrà sottoposta a sgombero. Ci sono anche alcuni latinos provenienti dall'ex hotel Cinecittà sgomberato per l'appunto negli scorsi giorni. Al momento non è possibile sapere il numero esatto delle persone all'interno della struttura ma dalle immagini che si sono viste attraverso le porte sembra che ci siano anche diversi bambini per cui la situazione è delicata. Un giornalista, mi posso chiedere qualcosa sull'operazione? Compariamente perché non possiamo rilasciare le interazioni se non autorizzate per il comando comunque era un censimento... Ok, perché sono gli stessi che erano a Cinecittà, ci è stato segnalato nei giorni scorsi? No, non trovo tutti, quindi siamo proprio andati un'attività di censimento. Ok, ma verranno sgomberati o sono censibili? Adesso stiamo facendo il censimento, poi vedremo nei prossimi giorni, insomma. Quello che si deciderà. Grazie!